Oggi nuovo vertice in prefettura per fare il punto sulle ricerche in corso dei due scomparsi, lo studente tedesco sul Gran Sasso e il pensionato scomparso da Rocca di Cambio. Le ricerche stanno andando avanti per quel che riguarda lo studente tedesco, l'Ewin-Webtschatz, sulla zona del Monte Prena in particolare in questo momento. Non filtra nulla da chi sta operando nei soccorsi se non questo. Ricerche concentrate su una delle zone più difficili per la presenza di molti canali e aree più complicate da ispezionare. Sono passati tanti giorni, al momento ci si muove senza avere tracce. Soprattutto c'è preoccupazione perché la zona del Gran Sasso negli ultimi giorni è stata colpita da temporali molto violenti. Sul posto sta operando ancora il Corpo Nazionale del Soccorso Alpine Speleologico d'Abruzzo, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, l'elicottero dei Vigi del Fuoco. L'escursione del giovane risale al 9 agosto quando avrebbe mandato una fotografia ai familiari. Lo avrebbero avvistato invece verso Monte Camicia degli escursionisti intorno al 16, ma si tratta di informazioni non verificabili. Lo studente indossava un pile blu, ha capelli lunghi e parla bene inglese. Anche i vari rifugi sul Gran Sasso hanno diffuso delle locandine per cercare di dare più informazioni possibili. Ricerche che però per il momento non hanno dato esito e la famiglia e gli amici vivono queste ore con angoscia e apprensione. Anche la trasmissione chi l'ha visto se ne sta occupando e apprensione c'è anche a Rocca di Cambio dove è scomparso il pensionato di 88 anni Marco Benzo, uscito per andare al bar senza documenti. Anche in questo caso avvistamenti, ma ricerche senza esito. Si è cercato per giorni l'ipotesi è che si sia allontanato nella strada verso l'Aquila lo scorso 29 luglio perdendo l'orientamento. Un avvistamento risalirebbe infatti ai giorni scorsi nella zona di Pettino, ma c'è chi giura di averlo visto anche in zona Fontavignone. Secondo la nuora il figlio potrebbe essersi anche riavvicinato nella zona di Roma dove viveva. Fisicamente è una persona che sta bene infatti, in grado di camminare molto, ma a parte queste tracce non c'è nulla. Eppure la famiglia in questo caso ha rifuso delle locandine in vari punti dell'Aquila, sperando che chi lo abbia visto possa aiutare. Le segnalazioni della gente in questo caso specifico sono fondamentali visto che le ricerche non hanno dato esiti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.